Adesso chi è, iperprotettivo? So che pensi di avere cose da farti perdonare, ma... Lo sto facendo per Sonia. È della famiglia. Per questo sono preoccupata. Andrà tutto bene. Riguardati, capito? Anche tu riguardati. Ti voglio bene. Briggs chiude. Briggs chiude. Ti senti meglio? O peggio? Non sono sicuro. Forse tutte e due. Staranno bene. La domanda è io come starò? Il fuoco incrociato è a posto. Ma perché Quan Chi viaggia con mezzi convenzionali? Sembra incapace di utilizzare appieno la sua magia. È più debole di quando ero al suo servizio. Sarina ha ragione. Lui non ha Shinnok come fonte di potere. È pur sempre Quan Chi, però. Hai accettato di farci da guida e osservatore. Ma sentiti libero di assumere qualunque altro ruolo. Sono arrugginito. Non voglio compromettere la missione. Si avvicina. Ora! Se volerai. Non lo brown. Si avvicina! Merda. Merda. non interferire jackson briggs torna a nasconderti nascondermi forse l'ho fatto prendi un po' non 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 Mi ha tolto di dosso la ruggine. Mi ha tolto di dosso la ruggine. Mi ha tolto di dosso la ruggine. Ho una famiglia da proteggere. Wan-Chi mi ha riunito alla mia famiglia. Farà lo stesso per te. Mi ha tolto di dosso la ruggine. Prendire un po'. Mi ha tolto di dosso la ruggine. Mi ha tolto di dosso la ruggine. Mi ha tolto di dosso la ruggine. Wan-Chi non ti ha aiutato. Facciamo a zucco! È possibile sfuggire a Wan-Chi? Kitana, posso aiutarti? Come By-Anne ha aiutato... Hai familiarizzato troppo con By-Anne. Hai permesso alle emozioni di corromperti. Le emozioni mi hanno liberata. Non capisco, Kitana. Io odio le cose che ho fatto qui. A te piace essere un Revenant. Mi si addice. Non sono più una vittima. Già, so cosa intendi. Ma non hai il modo giusto per affermarti. C'è n'è ancora un bel po'. Grazie a tutti. Voglio credere ci sia speranza per te Madre di Dio Molti sono morti, gli altri sono feriti E i nostri amici? La situazione si è ribaltata, sono fuggiti Come state voi due? Io sto bene Come pensavo? Dove stai andando? A impacchettare uno stregone Da solo? Ti ammazzeranno Non sarebbe la prima volta Nonostante la debolezza Sei in grado di liberare Shinnok Sono più che in grado Ed ora Sei sicuro che sia all'altezza Sono certo che mi porterà l'amuleto E io l'aspetterò Jackson Briggs Che piacevole sorpresa Non c'è niente di piacevole Così sei tornato da Raiden Il pazzo che segue altri pazzi Raiden ha fatto il massimo Ha salvato il regno della terra Mi ha assassinato Non è vero Tu non seri Mi ha portato via tutto Non meriti di tornare con noi Invece imparerai Che esistono cose peggiori Che esistono cose peggiori della morte Non è vero Lo scuola Che esistono cose peggiori della terra Sera Sao Sera Ma Mi ha Mi è Ah Si Ah Mi ha Soprattanti le tue capacità. 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 Soprattanti le tue capacità.